ragazzi facciamo l'ultimo video di pallone a salva la miseria questo è l'ultimo è sempre il nonnino con la barba lunga fino a qua sotto sempre il nonnino con la barba lunga fino a qua sotto e il video di pallone domenico candelmo passato prima col mezzo cercavano di conto e tutti i miei amici miei entriamo il video di concetto prendo ricorda è una barba lunga paleggio dragagnola tutta gazella guenta mamma mia ma chi è domenico candelmo davidio in broglia ma è quello freddo e il francesco grande paleggio roviglio steppe del giro gazella guarda vento vento hai già rovescio a brigadini più cosa la violenza tira la violenza la violenza tira la violenza dai stagani ci contano taggia scusita taggia tira uff ai dolore ah che dolore saggia scusita tira 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 lento 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 Il video ti faccio, il nonino è fantastico, con quella borba luna, palleggio, stracagnola, guardate un po' lì, il cuore, un pezzo di valore, mi fa scappare come un cosco, come un pezzo, non mi preoccupate, sono io, entri con me, palleggio, stracagnola, che borzato, borzatole, borzato, brava ignora, a 30 seconda luna, fermati, ma questo ti può fare tutto, aiuto, siamo in questa ora, è riposta nella camera dei segreti, è riposta della pietra filosofale, con del lego playstation e con del lego playstation A, ragazzi, quando sta? 2.57, continuiamo il video di concetto, palleggio, stracagnola, stai già sprecciuta, qui? 3.57, continuiamo il pallone, secondo me è sudato come ha preso la gelatina scivolosa, e non si può toccarla. Andamento lento, falleggio, che dolore, che dolore, che dolore, che dolore, andamento lento, che cazzo ti guardi, guarda oggi, Giuseppe D'Andrea, giuseppe D'Andrea, falleggio, c'è una cagnola, fermati, bravo, no, babbo la dalle di pulizia, è già una miseria, guarda buono, forrato Donofrio, Corrado, Corrado Donofrio, Corrado Donofrio, Costantino Gallicola, Marco Cortese, Agnello Cerreto,